Noi vorremmo semplicemente far comprendere all'amministrazione comunale come sia improprio l'idea di usare questo sito per la costruzione di un nido, al quale non siamo assolutamente contrari, anzi i servizi per l'infanzia ben vengano in città. Forte e chiaro il messaggio di Assunta D'Emilio, portavoce del comitato di Via Santina Campana Pescara che non vuole perdere un'importante esperienza di cittadinanza attiva nata quasi quattro anni fa in questa zona dei Colli Pescaresi, grazie alla costituzione di un orto urbano e di un parco adiacente. Un cambio di rotta peraltro già chiesto al Comune la settimana scorsa da alcuni esponenti locali e regionali del Partito Democratico. La voce di oggi boccia di nuovo l'idea di realizzare un asilo in quel sito. Qual è quindi la soluzione che voi proponete? Perché magari di asili comunali, come ricordava lei, ce n'è bisogno? Allora noi proponiamo di vedere se e ci sarebbero zone già vicino ad altri poli scolastici dove cioè esistono scuole primarie e scuole dell'infanzia perché la possibilità per Pescara di avere oltre a questa esperienza l'esperienza di un sistema integrato 06 o 011 sarebbe un grosso vantaggio e non sto qui a particolareggiare quelli che sono i vantaggi di sviluppo educativo didattico per bambini ma anche e soprattutto per i cittadini che vedrebbero la possibilità di gestire i propri figli da 0 a 11 anni in luoghi contigui, vicini, quindi senza le corse disperate per la città che tutti conosciamo. Avete avuto modo di esprimere queste vostre preoccupazioni, anche queste vostre proposte a qualcuno in comune? No, adesso siamo in attesa di poter partecipare alla commissione che dovrebbe appunto decidere sulla materia. Siete disposti ad andare avanti, a lottare? Allora, disposti sì, ma i tempi sono stretti perché le assegnazioni, la scelta delle sedi dovrebbe essere il 28 febbraio quindi dovremmo essere tempestivi più che durevoli.